Il processo per l'omicidio di Sara Scazzi, nuovo anno, nuova udienza in corte d'assisi a Taranto, oggi protagonista il consulente della difesa di Sabrina Misseri, cugina di Sara in carcere con la madre Cosima Serrano, il direttore del dipartimento di scienze anatomiche, istologiche e medico-legali dell'Università della Sapienza di Roma, Paolo Arbarello, ha dimostrato, foto alla mano, che non ci sono elementi per affermare con certezza che Sara sia morta per strangolamento. Arbarello ha criticato la metodologia utilizzata dal medico legale Luigi Strada, consulente dei pubblici ministeri, sia per la scelta di eseguire un solo prelievo per la zona che riguarda il collo, sia per l'esame del contenuto gastrico e intestinale ritenuto non approfondito. Rinviata a lunedì prossimo la decisione di un eventuale nuovo sopralluogo nel garage e nella casa della famiglia Misseri, oltre che sul pozzo in cui è stato ritrovato il corpo di Sara. L'udienza è stata poi momentaneamente sospesa per decidere sulla richiesta dell'accusa di revocare l'amissibilità come teste di Lia Nigro, amica di cuore di Sara, che anche oggi non si è presentata in aula, ha giustificato la sua assenza con la trasferta in Polonia, dove sta studiando per l'Erasmus. E' morta in piccata, a sostenerlo il direttore del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche e Medico-Legali e dell'Apparato Locomotore dell'Università La Sapienza di Roma, Paolo Arbarello, consulente della difesa di Sabrina Misseri. Non ci sono elementi per affermare con certezza che la sfortunata ragazza sia morta per strangolamento, ha spiegato nel corso del processo. Arbarello ha sottolineato come il livello in cui si colloca la lesione non è compatibile con lo strangolamento. Guardando le foto, la fascia è molto sotto il mento. Non c'è una ragione che mi spieghi, anche in termini istopatologici, perché la cute della povera ragazza immersa in acqua abbia questa fascia preservata. Il solco biancastro sarebbe, secondo l'esperto, più compatibile con l'impiccamento. La compressione del collo, ha precisato il docente universitario, avrebbe dovuto provocare un'emorragia che non è stata riscontrata in sede di esame autoptico. Arbarello ha quindi criticato la metodologia utilizzata dal medico legale Luigi Strada, consulente dei pubblici ministeri, sia in relazione alla scelta di eseguire un solo prelievo ai fini degli esami istologici per la zona che riguarda il collo, sia per l'esame del contenuto gastrico ed intestinale ritenuto non approfondito. E in rituale, ha detto Arbarello, che nel corso dell'autopsia non si faccia un prelievo del contenuto gastrico. L'avvertenza onfesa in primo piano, a poche ore dalla formalizzazione degli 85 licenziamenti, spunta un...